Svelare bellezza è il programma di investimento che il Ministero per il Sud ha attuato per finanziare il sostegno allo sviluppo turistico e culturale dei comuni della Calabria attraverso i contratti istituzionali di sviluppo, cosiddetti CIS. Sono 226 milioni di euro per 110 progetti con priorità alta che appartengono ad una prima tranche di interventi che riguardano quasi 900 progetti in tutta la Calabria. e presentati ieri a Tropea alla presenza del Ministro per il Sud, Mara Carfagna. Quasi 34 milioni di euro sono destinati al vasto comprensorio della Sibariti De Pollino per il finanziamento di importanti progetti studiati per tracciare una nuova linea di sviluppo turistico-culturale. Si va dal Parco Avventura di Mandatoriccio, 1,2 milioni di euro, alla Via dei Mulini di Cannà, 3 milioni di euro, dal Museo della Cultura Contadina di Campana, 1,2 milioni di euro, alla Casa della Cultura Arabesca di Lungro, con 1,2 milioni di euro, al Polo Museale di Crozia, 1 milione di euro, al Percorso Schendenberg di San Basile, 2,5 milioni di euro, e tantissime altre idee sparse su tutto il territorio calabrese. Andando alla provincia di Reggio Calabria, il più alto importo finanziato, circa 3 milioni di euro, va a San Luca, con particolare riferimento alla zona in cui ricade la casa che diede i Natali allo scrittore Corrado Alvaro. 2,9 milioni di euro per il progetto presentato dal Comune di Geracea in partnership con Locri, battezzato CIS, Fersefone e Pizzeferi. A Palizzi, un progetto di 2,5 milioni di euro che riguarda il Parco Naturalistico e Culturale di Capo Sud. Stessa somma è stata destinata al Comune di Gioiosa Ionica, con i Mulini del Torrente Gallizzi, la bellezza del paesaggio fluviale tra natura e artificio. Premiato con 2,2 milioni di euro, è il Comune di Platì con il progetto dal titolo Dai Cunicoli Furtivi a Centro Espositivo Sotterraneo, Produrre Cultura e Riqualificare il Paese, che si propone di avviare percorsi culturali in quelle che erano le vie sotterranee utilizzate da chi si nascondeva la giustizia. Anche Marina di Gioiosa si rifà il look con un progetto di oltre 2 milioni di euro che va a riqualificare il corso Carlo Maria, Via Montezemolo, Via Nazionale Nord e Via Genova. Punta sulla cultura invece il Comune di Casignana con quasi 2 milioni di euro per il finanziamento del progetto Luci d'Arte e Storia per scoprire luoghi dell'identità. Roccello ottiene 1,4 milioni di euro col progetto Coloriamo Case ed Ecoborgo di Micarè. Anche la città di Siderano è stata premiata col programma Svelare Bellezza, anche qui un finanziamento di 1,4 milioni di euro per il completamento dell'Anfiteatro di Siderano Superiore. A chiudere i progetti premiati in questa prima tranche in provincia di Raggio Calabria e nella Locrida in particolare, l'1,2 milioni di euro per il ciclo trekking a Caselnuovo di Africo è la riqualificazione della Marina di Sant'Ilario e dello Ionio.